Buongiorno a tutti, buon martedì, buon inizio di giornata. Sempre è bello iniziare la giornata tracciandoci con il segno della croce. Già da quando mettiamo i piedi a terra, anzi io dico già da quando apriamo gli occhi, dobbiamo dire grazie Signore. Grazie Signore per questa nuova possibilità che mi dai di vivere, per questo nuovo giorno, per la luce che sorge sulla mia vita, sulla mia casa. Grazie, grazie perché Tu mi ami, grazie perché mi usi misericordia. Poi tutto va affidato al Signore, dai pensieri alle preoccupazioni, alla famiglia, al lavoro, alla malattia, ogni cosa, perché noi siamo figli Suoi e allora come figli invochiamo il Padre Celeste e chiediamo luce e forza allo Spirito Santo e mettiamo tutto nelle mani materne di Maria Santissima. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo, dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Dolce cuore di Gesù, fa che io ti ami sempre più. Dolce cuore di Maria, sii la salvezza per l'anima mia. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Ci ritroviamo come discepoli della Misericordia alle 14.50, per l'esposizione eucaristica, la coroncina, e poi per il Rosario alle 17.20 e la Messa alle 18.00. Ciao a tutti, buona giornata. Pregate anche per me. Pregate anche per me.